Ciao fioi, oggi vi faccio vedere come fare i buconcini al merluzzo con i bei croccanti intanto che vuoi una bella fetta del merluzzo fresco e la tagliamo a tocchetti la infariniamo sulla farina del fior un piatto mette in farina del fior, paprika e peperoncino se vi piace una roba piccante se no fiete manco qualche aroma, acqua e mi si fa bene per fare la pastea mette il merluzzo sulla pastea e lo ripasse sulla farina del fior fare insieme una crema d'accompagnamento con yogurt, limon, un ininde e sale o infiade menta fresca tagliata fina guardè che cremetta fioi si o no? quindi olio sul fogo e con le bohente mettiamo due pesce con le bel cotto lo tiriamo su, lo fiamo sugare su un fiatire e carne assorbente un ininde e sale fina e impiattemo si o no? guarda che robetta ciò, che bontà se vi piaceste il video mette un like ciao